Ciao a tutti, rieccoci nuovamente qui e vedendo le immagini di queste ultime settimane, di quello che sta accadendo a Gaza, di questa terribile guerra che sta veramente lacerando quei territori, non posso non pensare a quella contrapposizione, propaganda religiosa che comunque figlia anche di quel conflitto. Ed è proprio su questo che voglio soffermarmi oggi, veramente pochissimi minuti, ma minuti comunque densi, pregni anche per comprendere un pochino come la propaganda riesca a farti cambiare prospettiva. E voglio concentrarmi su alcuni autori apologeti del secondo secolo che avevano una certa idea proprio non solo sulla religiosità romana e quindi anche quella greca, ma allo stesso tempo avevano una certa idea sugli dèi, sugli dèi e sugli oracoli in riferimento agli dèi, quindi sulla religiosità tutta. Una idea certamente negativa, un'idea certamente da rigettare, ma allo stesso tempo, come vedremo anche alla fine di questo video, un'idea o un insieme di idee che poi la propaganda cristiana è riuscita in qualche modo a modificare andando anche a sconfessare i suoi stessi autori. E quindi, volessimo quindi partire dagli autori del secondo secolo, non si può non partire da un autore che abbiamo poche volte citato, ma è giusto comunque farlo, che è Aristide di Atene con la sua apologia. Aristide che scrive nella prima metà del secondo secolo ha comunque un'idea certamente concreta, un'idea certamente certa, perdonate la ripetizione delle parole, degli dèi. E scrive questo. Hanno sbagliato di grosso dunque gli egiziani, caldei e greci, proponendo tali esseri come dèi e facendo un'immagine e divinizzandoli idoli muti e insensibili. E mi meraviglio come essi, pur vedendo i loro dèi segati e tagliati con la scura dagli artigiani, mutilati, invecchiati dal tempo e distrutti e fusi, non abbiano capito che essi non sono dei. Infatti dal momento che essi non hanno alcun potere sulla propria salvezza, come potranno prendersi cura degli uomini? Quindi la considerazione che qui fa Aristide è certamente molto interessante, perché va un pochino anche a sconfessare quello che è il cristianesimo oggi, un cristianesimo che ha statue, statuette di santi, santi che gli stessi fedeli tendono a venerare e che considerano quasi come reali perché supplicano proprio quelle statue. Anche il livello di intercessione, di intermediazione, ma questa cristianità di oggi da questo punto di vista va a sconfessare, per esempio, quello che dice Aristide. Ovviamente siamo all'inizio, vediamo ancora più nel dettaglio in che modo i primi cristiani si affacciavano agli dèi del Panteo. Questo è un altro autore, Atenagora, e la sua opera apologetica, Supplica per i cristiani, e anche lui ha un'idea certamente molto concreta degli dèi. E in verità, anche se avessero quindi gli dèi soltanto detto che essi sono corporei, hanno sangue, seme e passioni di ira e di concupiscenza, anche così ce ne sarebbe a sufficienza per tacciare simili racconti di ciarlataneria e di ridicolaggine. In Dio infatti non vi sono né ira né brame o desideri, né seme per la procreazione. Qui siamo ovviamente a un'idea ancora più concreta. Secondo gli autori cristiani antichi, l'appellativo di Theos, cioè di Dio, andava soltanto al Dio unico, a quel Dio inconoscibile, a quella Gnostos Theos, lo abbiamo anche imparato a conoscere con Paolo, e che non ha nessuna passione umana, cioè non è riconducibile non solo a nessuna antropomorfizzazione, ma non è riconducibile a nessuna passione che può contraddistinguere, per esempio, gli esseri umani, l'ira, la passione e non solo. Quindi anche qui abbiamo un'idea specifica comunque degli dèi. Non possiamo certamente, per esempio, non citare Giustino nella sua opera fondamentale le due apologie. Giustino qui ci va giù duro per quanto riguarda quindi gli dèi del Pantheon. Infatti scrive Ma la verità verrà proclamata, poiché anticamente cattivi demoni, facendo apparizione, violarono donne, corrupero fanciugli e mostrarono paurose visioni agli uomini, tanto che ne erano spaventati costoro, che non erano capaci di giudicare i fatti che capitavano al lume della ragione. Ma, preda della paura, ignorando che quelli fossero demoni cattivi, li chiamavano dei e ciascuno col nome che ciascun demone si assegnava. Quindi, come abbiamo sempre detto, i cristiani non possono negare l'esistenza effettiva degli dèi. Ecco perché i cristiani dei primi secoli non sono monoteisti, ma sono monolatri, cioè tributare il culto esclusivo a un solo Dio, ma riconoscere l'esistenza delle altre divinità. Ma in questo caso le divinità tendono a essere demonizzate, sono dei demoni, potremmo dire così, c'è dei demoni malvaggi. Ma prosegue ancora Giustino. Coloro che insegno alle mitiche invenzioni dei poeti non offrono alcuna dimostrazione ai giovani discepoli, anzi dimostrano che esse sono state create dai cattivi demoni per ingannare e traviare il genere umano. Infatti, avendo udito preannunziare dai profeti la venuta di Cristo e la punizione degli empi nel fuoco, i demoni offrivano di rimando le favole di molti, che si dicevano figli di Zeus, pensando che avrebbero potuto far sì che gli uomini tenessero le profezie di Cristo in conto di racconti fantastici, simili a quelli preparati dai poeti. Questi miti furono diffusi sia tra gli elleni, sia tra tutti i gentili. Qui Giustino dice, i demoni già sapevano le profezie dell'Antico Testamento che riguardavano il Cristo, il nostro Cristo, e cosa fanno? Hanno inventato le storie, i miti. Così per dire, così come i nostri sono dei miti, anche quelle del Cristo sono dei miti. Ecco l'inganno dei demoni, dice Giustino. Quindi ancora qui, gli dèi sono acconsiati dai demoni e quindi traggono volutamente in inganno. Non dimentichiamo questa cosa. Sempre Giustino, per ultimo, siamo nel secondo libro delle epologie. Dio che ha creato l'universo e ha subordinato agli uomini le cose terrene e ha ordinato gli elementi del cielo per la crescita dei frutti e l'avvicennamento delle stagioni. Ecco, tutto questo affidò la cura degli uomini e di ciò che è sotto il cielo agli angeli che a tal fine stabilì. Ma gli angeli, trasgredendo quest'ordine, si diedero ad accoppiamenti con donne e generarono figli che sono i cosiddetti demoni. Quello che più volte abbiamo detto in Genesi 6, i figli di Dio, cioè i figli degli dèi, i figli degli Elohim, potremmo anche dire così citando anche un pochino l'amica autore Mauro Biglino, scesero sulla terra, si accoppiarono con le donne degli uomini e lì nacquero i grandi uomini famosi, i grandi eroi delle antichità, quelli che noi conosciamo anche come semi dèi. Ma prosegue Giustino? Inoltre da allora si asservirono il genere umano ora con scritture magiche, ora con terrori e supplizi inflitti, ora con l'istituzione di sacrifici e di profumi e di libagioni, di cui hanno bisogno dopo che hanno ceduto alle passioni dei sensi. E tra gli uomini hanno disseminato omicidi, guerre, adulteri, sfrenatezze e ogni genere di male. Quindi ecco gli dèi sono fautori di ogni genere di male, dice Giustino, non dimentichiamo anche questo. Di qui poeti e mitologi, non sapendo che sono gli angeli e i demoni nati da loro a compiere contro uomini e donne, città e popoli, le iniquità che raccontavano, le riferivano a Dio stesso e a quelli che secondo loro sono i figli nati dal suo seme e ai cosiddetti suoi fratelli, Poseidone, Nettuno e Plutone e parimenti ai loro figli. Quindi Giustino è molto chiaro nel definire gli dèi del Panteo, definirle quindi fautori di ogni genere di male. E per ultimo cito il discepo di Giustino, cioè Taziano con la sua opera ai greci, la sua opera polemica, per chi ha letto il mio libro Parole ai cristiani so bene, ecco sa bene, anzi scusate di cosa sto parlando, un'opera fondamentale anche per la costruzione della teologia cristiana, ma non solo. Ebbene Tiziano, ecco anzi Taziano, scusate, scrive questo sempre in riferimento agli dèi e alla tradizione religiosa greco-latina. Non intendo venerare l'opera che egli ha realizzato per amor nostro, il sole e la luna sono venute all'esistenza per noi, e allora come posso venerare i miei servitori? E come posso professare che dei pezzi di legno e delle pietre siano dei? Qui torna il rimando ad Aristide, cioè com'è possibile in questo caso adorare delle statue, delle statue che sono totalmente inanimate? L'abbiamo visto anche con Paolo, Paolo che afferma per esempio nella prima lettera dei Corinzi, che gli idoli sono nulla, ma allo stesso tempo Paolo riconosce l'esistenza effettiva degli dèi. E qui anche Tiziano scrive questo in riferimento anche per esempio alla cristianità oggi come viene percepita, cioè al culto dei santi, al culto proprio anche delle statue dei santi, a questa venerazione che si ha per loro. E' anche questo molto interessante. Ma scrive sempre Taziano Come non considerare mortali coloro che, guardando degli sfidanti a duello, parteggiano chi per l'uno chi per l'altro? E colui che si sposa e corrompe fanciuglie e commette adulterio, colui che ride e che si adira, colui che fugge e che è ferito. Attraverso quei comportamenti, per mezzo dei quali essi stessi sono mostrati agli uomini quali sono per natura, hanno spinto a simile condotta coloro che li ascoltano. I demoni stessi con il loro capo Zeus non sono forse caduti sotto il potere del destino, dominati dalle medesime passioni alle quali sono soggetti anche gli uomini? Qui dice Taziano Sono talmente fautori di questo genere di male, anzi di ogni tipo di male, che hanno influenzato anche gli uomini. E gli uomini stessi con le loro gesta hanno a loro volta influenzato ancora di più gli stessi dei. Per ultimo, citando sempre Taziano La struttura del mondo è bella, è la vita che vi si conduce a essere malvagia, è come in una festa paneggirica è possibile vedere applaudito chi non conosce Dio. Che cos'è infatti la divinazione? Qui parla Taziano esplicitamente della divinazione, ed è un concetto che vedremo adesso alla fine, quindi cerchiamo di ascoltare bene quello che dice Taziano. Quindi che cos'è infatti la divinazione? E perché vi siete lasciati fuorviare da essa? E al servizio dei tuoi interessi nel mondo? Vuoi fare la guerra e prendi Apollo come consigliere delle stragi? Vuoi rapire una ragazza e invochi un demone che combatta al tuo fianco? Ti ammali per colpa tua e, come Agamè non ha intorno a sé dieci consiglieri, tu vuoi accanto altre tanti dei. Una tale, dopo aver bevuto dell'acqua, è in preda alla follia e tra fumi di incenso esce fuori di sé e tu dici che una simile persona pronuncia oracoli. Indovino era Apollo e maestro di coloro che profetizzano, con Daphne si sbagliò. Una quercia, dimmi, da oracoli e degli uccelli parimenti fanno previsioni, ma tu sei meno degli animali e delle piante? Sarebbe diverso bello, anzi sarebbe davvero bello per te diventare legno divinatorio e prendere le penne degli abitanti del cielo. Quindi non respingete con orrore noi che invece siamo di tal fatta. Rifiutate i demoni, seguite invece l'unico Dio. Quindi Taziano non solo va contro gli dei, definendoli, così come fa Giustino, come fanno altri, dei demoni malvagi che hanno perpetrato degli inganni, dei danni nei confronti degli umani, ma anche gli oracoli, dice Taziano, non bisogna assolutamente ascoltarli. Quindi abbiamo chiara quella che è l'idea della tradizione religiosa. La tradizione religiosa ovviamente è greco-latina da parte dei cristiani. Gli dei sono demoni malvagi e gli oracoli non bisogna ascoltarli. Ma cosa è successo poi quando il cristianesimo nel IV secolo si è affermato come unica religione vera? Quindi dopo quel famoso editto di Tessalonica. E ciò dice Claudio Moreschini, che è uno dei più importanti esperti di patristica che abbiamo in Italia, docente universitario, che in questo libro L'Apologetica dei padri del IV e V secolo fa una considerazione molto interessante e con questo io voglio concludere. Scrive per l'appunto Claudio Moreschini che, a partire dal IV secolo, alcuni intellettuali cristiani come Lattanzia e Girolamo in Occidente, i padri di Cappadoci e Cirillo di Alessandro in Oriente, moltiplicano riferimenti alla religione pagana, considerando che era un uso giusto quello di impadronirsi delle ricchezze della cultura profana per consacrarle a Dio. Infatti gli Apologeti cristiani si erano resi conto del fatto che, per convincere i pagani a convertirsi, non bastava annunciare il Vangelo o spiegare le profezie bibliche. Per convincere i pagani a volgersi al cristianesimo, gli intellettuali cristiani fecero ogni sforzo per trovare dei ragionamenti appropriati, per spiegare che le dottrine cristiane non erano delle stolte innovazioni prodotte da degli spiriti poco intelligenti, ma che erano state in un certo modo predette dalla migliore tradizione filosofica e religiosa, greca e orientale, e che quindi si trovavano sostanzialmente d'accordo con la sapienza greca e con la sapienza pagana. A partire dagli inizi del IV secolo, gli Apologeti cristiani si dedicarono sempre più spesso, attenzione, a consultare gli oracoli attribuiti ad Apollo e a fornire un'interpretazione cristianeggiante di essi, nell'intenzione di rivelare la vera armonia che esisteva tra i dogmi della fede cristiana e le dottrine che provenivano da Apollo, il quale era stato un tempo scelto da Dio allo scopo di preparare gli uomini al messaggio che sarebbe stato insegnato dal Messia. A luogo dunque un'apologetica che prende in considerazione persino gli oracoli dei dei pagani, nella convinzione che anch'essi, seppur imperfettamente e senza essersene resi conto, avevano preannunciato la rivelazione manifestata con chiarezza e autorevolezza da Cristo. Quindi è anche molto interessante quello che abbiamo avuto modo di leggere grazie al professor Moreschini, in riferimento anche a quello che gli autori cristiani del secondo secolo credevano. E quindi possiamo ben comprendere quella che è la forza stessa della propaganda, sia essa politica o religiosa. Come cambiano i paradigmi, come cambiano quindi i punti di vista a seconda dei secoli e a seconda anche delle esigenze stesse della propaganda. Ma ovviamente non voglio dilungarmi ulteriormente, le cose sono state ecco abbastanza chiare, perciò infatti vi lascio con le conseazioni fatte oggi, spero, ne facciate tesoro. Vi ricordo come sempre i link di riferimento qui sotto, sia per la mia pagina autoriale Facebook e Spolito Francesco Scrittore, per i miei link Amazon, in riferimento quindi all'acquisto dei miei libri Palolo di Tarza, l'invenzione del cristianesimo e Parole ai cristiani. E come sempre io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto e io vi lascio ovviamente al prossimo video e alla prossima chiacchierate insieme. Ciao a tutti e ancora grazie. Grazie